Questo è stato un anno molto difficile. Dicono che la nostra è l'epoca della violenza, ma fortunatamente Dio ci ha risparmiati e tutti i nostri corsi si sono svolti tranquillamente. Se qualcuno dice che con il sacrificio della messa si commette sacrilegio contro il sacrificio di Gesù Cristo morto sulla croce, su di lui Anathema. Se qualcuno dice che i comandamenti di Dio sono impossibili da osservarsi, anche da colui che si è confessato ed è in stato di grazia, su di lui Anathema. Su di lui Anathema. Puntate. Fuoco. Che succede? C'è un poligono qui intorno? No, no, ero io. Immaginavo che fucilavano un papa. Come? Oh, sta tranquillo, se ne vedranno parecchie, ma un papa fucilato certo non lo si vedrà mai.